Salve a tutti e benvenuti nel primo video del canale. Come potete notare da questa schermata, esso tratterà di Minecraft. Settiamo il nostro mondo e iniziamo. Sembra un mondo fortunato, siamo subito spawnati in un villaggio. Visto che ci troviamo in un posto pieno di risorse, iniziamo a prendere cibo. Facciamo un po' di conoscenza con gli abitanti. L'unico lavoratore, sembra essere un macellaio. Ehm, questo sembra essere il rimanente della cesta iniziale. Andiamo ad esplorare un po' la zona. Oddio, la foresta è in fiamme. Cerchiamo di salvare più legna possibile. Spegniamo anche quest'ultimo fuoco. Vedo una pecora, mi sa che ne ucciderò alcune per prendere della lana. Uccidiamo anche un po' di mucca per prendere del cibo. Una caverna era proprio quello che ci serviva adesso. Ci permetterà di raccogliere i nostri primi materiali importanti. Vedo già del buon ferro. Craftiamo degli utensili migliori. Raccogliamo il nostro primo ferro. E anche del carbone, ci aiuterà molto. Questa vena è ricca di ferro. Grazie per la visione. Grazie per la visione. ante. Prepariamo un po' di torce ed esploriamo questa caverna. Questa caverna ci sta aiutando tantissimo in quanto ha risorse. Mi voglio scusare se ci sarà del lag, cercherò di migliorare col tempo. Sento rumore di zombie, presumo sarà il nostro primo nemico. Eccone un altro. La prima ondata della serie è stata sconfitta. Facciamo il primo letto, per passare qui la notte ed evitare altri mob. Craftiamo. Craftiamo una fornace per iniziare a smeltare il ferro. Sistemiamo un minimo la zona, anche se non sarà la nostra abitazione. Raccolgo un po' di cobblestone, che ci servirà in futuro. Raccolgo tutto il ferro, anche se non ha finito di smeltare. Prendiamo tutta la nostra roba, perché andremo verso altri luoghi. Ho, una spruce forest, ciò che desideravo. Presumo che mi fermerò a prendere del legno che useremo in molte costruzioni. Prendo un po' di alberelli, per piantarli successivamente. Prendo un po' di alberelli, per piantarli. 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 Non ci credo, uno spawner così in alto. Sarà una dura battaglia, senza armatura. aiuto sto per morire sono salvo per miracolo e con uno spawner di scheletri molto fortunato siiii non poteva andare meglio oddio uno stelecro sparnato a bosso mi stavi per uccidere stronzo grazie Mettiamo un segno per ricordarci dello Spadner. Troppo profondo, ci ritorneremo in un altro episodio. Troviamo una postazione provvisoria per piazzare una crafting. Piazziamo anche il letto e settiamo lo Spadner. È l'ora di usare del ferro e preparare la nostra armatura e gli utensili in ferro. Ho visto un'altra caverna che probabilmente porta in cima della montagna. Potremmo fruttarla per decorarla e lasciarla come passaggio. La vista è davvero bella, mi piace molto questo bioma. Andiamo a vedere il contenuto delle ceste. Una name tag e due libri incantati, non male. Posiamo tutto prima di perdere qualcosa. Sto prendendo della terra per terraformare l'entrata della caverna. Sto prendendo della terra per terra. Il video sta diventando troppo lungo, quindi concludiamo qui il primo episodio. Spero che vi sia piaciuto, noi ci vediamo nel prossimo episodio, grazie della visione.